ok funziona vediamo un po' vediamo un po' come funziona questo mazzo in questo modo si che poi adesso ma io sto facendo questa cosa qua sto facendo questo è un video di prova vediamo perché questo è un drogo di drago qui riprova e vediamo il re dei liege lo scurità arriva con venti geliti senti il potere della natura un audio moltissimo ok raghetto si un prego subito diamo un po non iniziamo dai frego ti prego no basta ora iniziamo a rompere le palle queste carte ma poi la cosa per te col mazzo l'handicap è sempre quelli lì c'è proprio le carte in che non se ne fanno sono un dito in culo allucinante guarda in culo non mi sembra più grande ma io poi gioco no non mi sembra poco cioè relativamente poco però c'è tutti i giorni e ritengo anche giornata per mazzi Io gioco i stessi mazzi che giocano gli altri, le fai di continuazione, è una cosa allucinante. Non so come fare. Vado a ridere come si fa solo. Ma che cazzo? E vabbè, io non so che dire però, le botte con tutti gli altri. Quando lo gioco io, sto qua, sempre la merda, giocano gli altri, oppi. Aiutatemi. Oh bella questa. 10 carte in più che male non fanno. Le rende anche più inutile il suo... ...masse è già bella. Guardissimo. Ok, forse è così. E non è male. Penso poi che sia convenuta questa cosa. Olè. Olè. Vediamo un po' che cazzo. C'è pure che sta in mano. Lo passi qua. Vediamo un po' che succede. ... 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 Allora questo qua tra 3-4 minuti si può lanciare e ci divertiamo, adesso devo librarmi un po' la mano così posso pescare a merda, però finchè non mi andiamo avanti qua non posso fare niente. E comunque giocare contro, io quasi sempre sono tutti i bot, io non chiusco come sia possibile, io poi come riconosci i bot, perché hanno doppio nome e conoscono le trama di uscola, poi sempre sono quelli, io gioco quasi tutti quelli di tappa. E vabbè. Guarda. Mi do, posso dare io? Ok. Io farei, farei cosa? Guarda. Questa si chiama magia. Wow bella. Guarda sta giocando. Finito. Guarda. Buono. Vediamo un po' qua che succede. Io poi gioco una lista di 3-4 minuti, quindi ho un po' dentro ciò e cosa mi si chiama carte molto forte, che è un fare i miei altre carte. Io gioco tutto su quelle, sul fatto delle carte ragazzi. No parrottendo così, adesso mi sono scattate. Ho fatto pulire. Sisto. Vento ho fatto Thankfully qui. Alimento, lo so mi sono stati democentori effettori, alimento, alimento, alimento che l'acqua propone che le wants являетсяlins, Ok, mi va bene. Lui è molto importante, secondo me. Mi schiava il colore che mi servono le carte. Guarda lì c'è. Vediamo un po' cosa mi regala questo qui. Ho fatto un turno bello forte però non so quanto è fatto. Perfezione, gomma, danzone. Perfezione, gomma, danzone. Perfezione, gomma, danzone. Verso i ciali! Un bravo. Allora... Tu cosa vuoi che ancora mi cresce l'automano? Gioca lo scuro di immagini diverso e effettua un'altra trasformazione. Non ho niente di questo tipo, ma va bene. Allora... Allora... E' un po' che mi levo un po' dentro. Mi morge. Tutti insieme! Non vedo il nostro cavo! Non ti sento! Allora... 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 Tutti insieme! Non è vero. È un po' una macchina. Guarda serviti. E qui addirittura è un po' di si stesso. Qui viene inizia ai cinze, ci fanno molto male. Dì, un po'. Non è vero. Che dubbio,听 è un po' di chi mi dirty! Sono un po'. Alfilme ed esatte scattere. Simmutente! Simmutente! Simonvenz operati! Meriti un'eternità di tormentor. Non è vero? Oddio e forte! Gi주�mit exercise! Ehi, precissima, cazzo no vieni te! Ma dove cosa succede questo gioco qui? Vada bene. Lo vediamo come è vero questo esperimento dai.